Proponiamo soluzioni di stampa 3D industriale e abbiamo uno dei laboratori di additive manufacturing più avanzati in Italia. Siamo inoltre centro di ricerca, di formazione, consulenza tecnica e riprogettazione. Ci occupiamo di re-ingegnerizzare, ottimizzare e produrre i progetti dei nostri clienti con le migliori tecnologie di stampa 3D e migliori software e abilitiamo i nostri clienti all'utilizzo dell'additive manufacturing. Lavoriamo a progetti che spaziano dalla meccanica allo sport, dalla personalizzazione alla produzione industriale, incrementandone le performance meccaniche e fluidodinamiche, semplificandone la realizzazione e limitando il numero di componenti. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere l'utilizzo efficace della tecnologia, accompagnando la tua azienda nel percorso di digitalizzazione e creazione di un'industria 4.0. Grazie a tutti!